E adesso andiamo avanti con Stefano Armanasco dell'Associazione Free With. Eccoti. Allora, questo microfono. Ciao Stefano. Ciao a tutti, grazie per l'invito, grazie Daniele. Intanto noi rappresentiamo un po' quella parte diffusa di consumatori su questo territorio nazionale che crede che sia il momento di un confronto importante con la politica in cui si possa parlare chiaramente, in cui non ci si vergogni più di quello che è il nostro anche consumo e quindi chiediamo alla politica prima di tutto di iniziare a ragionare sul confronto ad armi pari, non elevandosi da un palco e poi parlare. Bisogna anche parlare poi di quello che è il consumo. Insomma noi siamo una associazione di consumatori e quindi volevo portare questo punto di vista. fondamentalmente la legge in discussione alla Camera è una legge che sicuramente è minimale ma raggiunge e raggiungerebbe un punto di svolta fondamentale per il nostro Paese. Ma credo che non arriverà a un dunque, anche perché vedo sempre nei partiti politici che la sostengono, a parte che l'hanno confermato anche oggi, sempre un po' questo individualismo, un volere emergere, quasi come se le elezioni che si avvicinano siano una motivazione anche singolare. Ma posso capire, però il problema grande secondo noi è che c'è questo stigma che aleggia nella politica questa distanza tra la politica attiva, quindi parlamentare, gli eletti anche da noi e poi il consumatore, gli attivisti che portano avanti questo argomento giorno e notte e subiscono la legge mentre chi ovviamente non la consuma, non la subisce ma la ipotizza. E allora cosa succede? Succede che spesso la politica si va a confrontare su questo tema ignorando in realtà il punto focale della situazione che è che la gente fuma le canne, che la pianta la gente la coltiva per fumarla, non per fare i soldi, non per vendere la pasta, non per vendere le birre, ma soprattutto per fumarla. E dall'alba della civiltà, chi studia lo sa, la cannabis ha sempre accompagnato lo sviluppo in tutte le civiltà che conoscete, etruschi, romani, sviluppavano la cultura della cannabis, non avevano il pomodoro ma avevano la cannabis. Perché? Perché la cannabis è sempre stata una delle piante apprezzata a 360 gradi e quindi vogliamo che la politica inizia a includere anche il consumo nel ragionamento. Quando si propone una legge solo sulla coltivazione personale e non si va a tenere conto che poi la gente la consuma, che guida, che esce, che ha un lavoro e non si vanno a migliorare i test, capisco che è un punto di partenza ma forse non è abbastanza. Quindi noi siamo qui a rinnovare l'invito, a affrontare il tema a 360 gradi superando lo stigma, non avendo paura di confrontarsi con chi fuma, perché non è che è per forza un discriminato come vogliono farci credere o ci hanno educato male nel proibizionismo, ma è una persona normalissima come chi non fuma e quindi può avere una sua idea politica ed è giusto che il confronto ne tenga conto. Ma se si parla di fare una normativa la politica deve tenere contro delle sfaccettature, non si può permettere la coltivazione senza permettere una garanzia del consumo, una possibilità di non essere licenziato perché si ha a casa la pianta, quando uno poi coltiverà le quattro piantine cosa fa? Esce e non può dirlo perché non si vuole affrontare lo stigma, lo stigma è che il consumo è diffuso e se si vuole affrontare bisogna regolamentare a fondo affrontando tutto il problema se è un problema tale, ma in realtà dal nostro punto di vista anche questo non è un problema, viene visto come un problema, perché? Perché sempre la politica vuole ideologizzare, ideologizzare diciamolo bene questa situazione, non affronta il tema scientificamente, tranquillamente, tu fumi, bevi un bicchiere di birra, tutti qua stanno fumando, bevendo birra, non è un problema, in realtà però se si fuma si ha paura di, e se mi riprende la telecamera e se poi mi vede quello del centrodestra li do un motivo, ma non dobbiamo più avere questa paura, anzi dobbiamo iniziare a considerare che effettivamente la legge che vogliamo e che i politici sbandierano solo nell'anno preelettorale, e li ringrazio perché almeno fanno dei punti importanti di discussione, sono il primo a volermi confrontare sempre con tutti i partiti, però questa legge quando va proposta, se si vorrà adesso portare alle prossime elezioni, perché questa clamorosamente crollerà al Senato, magari passerà alla Camera a pelo, ma se si vuole portare alle prossime elezioni, se si vuole inserire bisogna parlare di una legge completa, dove il consumatore sia al centro e non dove sia al centro che lo Stato allora risparmia 100 milioni, sì, gli risparmi ai 100 milioni, ma non arresta le persone innocenti, è quella la base, non arresta persone che non fanno nulla, che sono perfettamente già oggi inserite nella società, che sono parte integrante, contribuiscono a questa situazione di sviluppo economico, di crisi, quello che è, ma sono come tutti noi, dobbiamo smettere di discriminare questa cosa e iniziare dal nostro punto di vista a considerare la legge come una parte della vita della gente, non come una cosa che si sbandiera per arrivare a un dunque, a raccogliere un voto, a raccogliere un consenso, bisogna semplicemente completarla, serve una legge completa con coltivazione, consumo, regolamentazione della vendita e regolamentazione di tutte le condotte, sappiamo però che appunto c'è questa battaglia in corso adesso e quindi siamo i primi a sostenerla e anzi a dare la nostra fiducia al partito che insomma ci ospita anche, però di fatto io voglio chiudere insistendo che si è sviluppato probabilmente l'incontro un po' troppo su quello che sono le sfaccettature extra consumo, quando invece in realtà, ripeto, la cannabis è una situazione che accompagna l'essere umano da sempre, non bisogna più averne paura, abbiamo anche un sistema endocannabinoide all'interno del nostro corpo, forse dovremmo parlare di più di questo, farlo studiare e al posto che organizzare qua, lo dico, situazioni dove soltanto è una passerella, Daniele te lo dico perché io ti ringrazio, però è una passerella del PD, magari iniziare a fare di più come PD prima di chiedere i voti, ma credo che oggi questo si sia capito perché già ho visto ammettere che partiti politici retribuiti dai cittadini hanno fatto una legge minimale per paura, ma questa è la politica che merita l'Italia? No, non meritiamo questa politica, vogliamo più coraggio, vogliamo che proponete una legge completa che poi si discuta nel mendamento e magari si va a fossare la Lega, sapete che cosa fa con la vostra proposta minimale? Minaccia la crisi di governo, tira giù tutti i ministri, voi dovreste fare lo stesso, se non passa crisi di governo e vediamo cosa fanno loro, si va al voto e portate al voto nel programma elettorale una legge completa, questo è avere coraggio e soprattutto cercare di includere un po' di più i consumatori perché davvero non sono persone discriminate, siamo normalissimi, adesso vado a fumare, ciao a tutti, grazie Daniele, ciao!